wow 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 ragazzi ed eccoci qua con un video un po diverso dal solito questo è un mini video per dirvi che sono stato invitato a partecipare al cebro boscar e sto in sbagliate categorie quindi vi lascio il link in descrizione e poi il link nel primo commento del canale in cui poter votare la mia partecipazione quindi se mi fate vincere come miglior ospite vi prometto che mi dipingerò i capelli di un colore vostra scelta invece se vinco tutti i premi in cui ci sono io quindi tutte le categorie in cui vengo citato io non soltanto dipingerò i capelli di un colore che voi vorrete ma addirittura prenderò e farò una live in cui mi truccherò e cambierò diciamo sesso per un'intera live spero di riuscire a trovare qualcuno che mi vorrà diciamo truccare in live diciamo che mi trasformerò da maschio diventerò femmina per una live ma solo se riesco a vincere tutte diciamo le categorie in cui ci sta il mio nome quindi votate fatemi arrivare primo ci vediamo tutti il 28 dicembre alla live del cebro podcast alle 21 e staremo in tanti e oddio ci saranno pure persone che finalmente posso vederle che da tanto volevo vedere ma non ho mai avuto occasione di poterle incontrare quindi ci vediamo il 28 dicembre al cebro podcast ciao